Io credo che le ragioni per cui abbiamo scritto in Parlamento la Commissione ogni giorno diventano più evidenti e più significativi, ci sono tante zone di opacità e di ombre che vanno chiarite, alcune si stanno chiarendo e soprattutto ci sono una serie di elementi, oggi sono le dichiarazioni del generale Bozzo, dei Carabinieri che era il numero due di Dalla Chiesa e fanno presente una serie di altre situazioni che necessitano di un chiarimento fatto di fatti e non di parole, d'altombre l'omicidio di Moro e della sua scorta a 37 anni non rappresenta le radici del nostro passato, ma rappresenta le radici del futuro di un'Italia che vuole cambiare pagina e che dei conti con il proprio passato e guardando al futuro più libera e con una maggior ottimismo.